Allora ragazzi purtroppo in questo video cambiando la webcam ho disattivato anche il microfono il quale mi sono poi scordato di riattaccare Meno male che comunque l'app che uso per registrare sul telefono registra anche l'audio Purtroppo è scarso, sembro quasi un alieno però beh spero godiate lo stesso della visualizzazione di questo video Ciao a tutti ragazzi e bentornati su un nuovo episodio di FIFA Mobile Ragazzi sono andato avanti, ho giocato davvero tantissimo Siamo arrivati in Lega Pro 3, 202.200 tifosi per la nostra squadra con un overall di 76 Allora vi faccio vedere la rosa che è cambiata rispetto al episodio scorso Abbiamo il nostro Cristiano Ronaldo che è arrivato a livello 85 Mi avete detto che il Cristiano Ronaldo viene allenato con i gettoni maestro infatti adesso è arrivato a livello 85 E' molto molto forte Nel episodio scorso c'è Rajama, c'è Young della squadra settimana come attaccante destro E poi abbiamo Sanchez Elite 82 che abbiamo trovato in un pacchetto giornaliero ragazzi Questa è la rosa 76 Quello che andremo a fare quest'oggi ragazzi sarà un grande spacchettamento Abbiamo 346.000 crediti che andremo a utilizzare appunto per i pacchetti E poi abbiamo anche Idoli della Community che abbiamo praticamente da pescarci ben credo 5 carte di queste qui Abbiamo ben 300 punti della Community che andremo a spacchettarci Prende 300 diviso 60 fa 5, quindi 5 pacchetti degli Idoli della Community E poi ovviamente abbiamo anche 200 creditozzi FIFA Point Quindi andremo a spacchettarci almeno un pacchetto di quelli shoppabili dal negozio E partiamo con quelli gratuiti ragazzi Vediamo un po' Vediamo ragazzi se andremo a scolare anche un po' in questo gioco Partiamo dal pacchetto più basso di grado Quindi pacchetto gratis giornaliero Giornaliero per modo di dire perché si giorna ogni 4 ore Quindi vediamo un po' che cosa ci regala di solito punti esperienza Infatti 250 punti esperienza per l'allenamento Quindi vabbè niente di che Andiamo su quest'altro pacchetto I quali punti ancora non mi è chiaro come si ottengono Vediamo un po' Premi garantiti giocatore oro Vediamo questo pacchetto che cosa ci regala Allora abbiamo 500 punti allenamento Buono Roli 58 COC Abbiamo poi Yamna 63 Oh Dowell 3.000 di Dowell della squadra della settimana E poi ci dà un 72 Kada Buono 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 Possiamo aggiornare la nostra rosa E va in squadra con noi Bene Abbiamo fatto il nostro primo spacchettamento Non è andato assolutamente male Abbiamo aggiornato la nostra squadra Ma sicuramente non si sarà mossa dall'overall di 76 Perfetto A questo punto direi di aprirci subito Un pacchetto FIFA Mobile Da 200 FIFA Point Abbiamo la possibilità di trovarci un giocatore elite O un giocatore maestro Di livello 90 o più Sarebbe veramente la fine del mondo trovarlo ragazzi Tra poco anche il mio compleanno Quindi FIFA Fammi un bel regalo Dai Dai Cristiano Luccio Vediamo un po' cosa ci trova Oh 7500 monete Non è male 100 punti Allenamento Ok 1000 punti allenamento Vucenovic 53 Ultima carta Giocatore oro Giocatore raro Ci da Garritano 71 Va bene Questo non Non andrà nella nostra rosa Non c'è Non c'è motivo di aggiornare la nostra squadra Vediamo se con questi 353.000 crediti Che abbiamo risparmiato in questa settimana Riusciamo a trovarci almeno Qualche giocatore elite Quindi pacchetto giocatori Che sarebbero pacchetti da 35.000 Abbiamo la possibilità di trovare Un giocatore elite Giocatore maestro Ovviamente giocatori della squadra a settimana E abbiamo comunque premi garantiti Giocatori oro Dai così 35.000 Andiamo a spacchettare il nostro Primo pacchetto giocatori Boom Cosa ci regala Vediamo ragazzi Allora abbiamo Abruzzese Abruzzese Ammazza Poi abbiamo Fitzgerald Poi Shoop E poi Shloop Niente ragazzi Primo pacchetto Non abbiamo trovato assolutamente niente Partiamo con un altro pacchetto 35.000 crediti Dai Dai voglio giocatori Voglio giocatore maestro Se trovo un giocatore del genere Ragazzi È la sculata della storia Eastfood 54 Type 51 E poi ci dà un Crutch 70 Che ancora lui Non ci serve assolutamente a niente Però comunque sia Li metterò poi tutti quanti sul mercato Se non ci faremo altri bei crediti Tozzi E appena raggiungiamo una buona soglia Faremo un altro spacchettamento Allora Altro pacchetto per noi Altri 35.000 crediti Abbiamo Croll Altri Evans E poi Oh AlexTel 78 Non Assolutamente non male Non male ragazzi Subito in squadra Subito nel team 78 Molto Molto buono direi Molto buono Sì 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 Vai ancora Altro pacchetto Signore 35.000 crediti E si va Altri due bronzoni Per noi Non ci interessa Sostamente ci interessa Hermoso Niente Di la Liga Santander Non ci interessa Hermoso Niente 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 Si va avanti Altri 35.000 crediti Abbiamo altri tanti pacchetti Da spacchettarci Ragazzi Si va Si va Questo lo skip Boom Ci da Verdi e 70 Vabbè vabbè Niente da fare Mi piacebbe trovare davvero Un giocatore Almeno Elite Almeno Elite 80 In questo video Dai Dai fammi un regalo FIFA Watson Poi abbiamo Casa E E Oh Livermore 72 Possiamo metterlo in squadra E grande così Aggiorniamo ancora Nostra rosa Boom Perfetto Abbiamo ancora 143.000 crediti Si va avanti ragazzi Si spacchetta Fino alla fine Poi abbiamo anche Vi ricordo 5 giocatori Della community Da spacchettare Quindi La probabilità Di trovare Il giocatore Elite Della community Potrebbe non essere Lontano La possibilità Noi ruden Li Li Lian Sun E poi abbiamo 71 Yabo Niente da fare Ragazzi Non abbiamo Cascolato Un giocatore Elite Con 108 Mila Crediti Probabilmente Ne facciamo Altri 3 Più o meno Altri 3 Spacchettamenti Vediamo Dai Altro pacchetto Giocatore Per noi Sherbakov Poi Malchi E giocatore Fernandao 72 Non andrà A nostra squadra Vabbè Questi giocatori Oro Comunque Vediamo Un po' Quanto valgono Sul mercato E ci faremo Qualche soldo Allora 35000 Credit Forse non ce la facciamo A spacchettarci un altro Non lo so Non lo so Non lo so Questo ragazzi Me lo schifo tutto Boom 73 Pocu Pocu Aggiorna squadra E va Nel nostro centro Che è un po' Cioci Signori No 38000 Ciò facciamo Perfetto Ultimo pacchetto Giocatori Ultimo pacchetto Giocatori Grego Sierra 58 60 Oh Giocatore argento Quindi potrebbe essere Magari superiore All'ultimo giocatore Oh attenzione 3 2 1 Boom Ci da Niente Andrà da 70 Non ci serve assolutamente A niente Perfetto Andiamo adesso a vedere Com'è la nostra rosa Qua Oh 77 Abbiamo aumentato Di un punto La nostra squadra Siamo a 77 E abbiamo a questo punto Il nostro giocatore 78 Alex Telles In difesa L'altro Chi era Pocu Al centro campo No perfetto Ok Questa è la nostra Rosa 77 Per noi Continuiamo a salire A questo punto però Andiamo qua Negli idoli della community Perché abbiamo 5 giocatori Comunque Sicuramente Almeno oro Li troviamo Quindi Non sono male Poi comunque Sia manca ancora 9 ore di tempo Quindi Altri punti Riuscirò a farmare Vediamo un po' Se troviamo almeno Questo Caerne Signori Andiamoci da comunque Al 5.000 monete Quindi non è male Un giocatore Oro O più E poi ragazzi Abbiamo anche la possibilità Dove prendici Questo giocatore Elite Allora dai Col primo 60 punti Della community Andiamo ad aprire Questo pacchetto Allora subito 5.000 monete Boom E poi Fernand Ancora Abbiamo preso Adesso Va bene Ok Ok FIFA Ok FIFA Lo ripeto Tra poco È il mio compleanno Fammi un regalo A FIFA Fammi un regalo Dammi una gioia Un bel giocatore Un bel giocatore Elite Nel nostro primo Spacchettamento Della nostra serie Di FIFA Dai così 5.000 dai 5.000 E poi il giocatore È Oh Oh 75 Che giù Che giù Si pronuncia Si non lo so Però È un giocatore Che andrà Ad aggiornare La nostra rosa E quindi Non male Bene 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 Però mi fa comodo Il fatto Che comunque Aggiorniamo La nostra squadra E quindi Piano piano Cresciamo Terzo pacchetto Per noi Altri 5.000 Crediti Vero Si grande E poi il giocatore Oh ci dà Seca 72 Niente 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 Non andiamo A prendersi Neanche Uno Giocatore Elite Ci rimangono 120 Quindi altre Due Carte Altre due Carte Altre due Giocatori Della Idoli Della Community Boom Altri 5.000 Bene bene Perché comunque Farmiamo tanti Crediti È Non male Assolutamente Quindi Alla fin fine 5.000 Crediti A ogni pacchetto Non è affatto Male Oh Oh Mora abbiamo preso Signori Giocatore Elite Per noi Bella FIFA Bella FIFA Giornà Subito Squadra Subit Abbiamo preso Però non è il giocatore Che abbiamo qua Su Vabbè ragazzi Abbiamo preso Un giocatore Elite Non male Giocatore 80 Alla grande Direi Abbiamo trovato Finalmente Il giocatore Il giocatore Li abbiamo subito Messo nel nostro team Nella nostra Rosa Nella nostra squadra Andiamoci a prendere Anche l'ultimo Pacchetto E vediamo se Tramma questo Carni Anche perché Comunque Con questo sfondo Sia proprio Della limited edition Di questo evento Quindi è molto più raro Del solito Dai Andiamo un po' Trovare Quest'ultimo pacchetto Trovamo qualcosa di buono Altri 5.000 Crediti Quindi Tremono Circa 28.000 Quindi Non male Assolutamente E poi Vediamo se Troviamo Il giocatore Un altro Elite Magari maestro Non so se possono Trovare in questi pacchetti Però Proviamoci Boom Oh Pejinovic 74 Neanche va ad aggiornare La nostra rosa Però non male Adesso andiamo a vedere Come siamo messi Siamo sempre a 77 Siamo sempre a 77 Però abbiamo Muriel in attacco 81 Mi sembrava 80 Perfetto Forse perché è stato allenato Non lo so Infatti mi sa di sì Perché è più uno Sì Che ha il bonus Potenza Colpi di testa Che Fatemi capire Però questi bonus Potenza Cioè i potenziamenti Vanno automaticamente Nel giocatore C'è neanche Le scelgo io Automaticamente Metto il giocatore Ne squadra Aggiorna la formazione E subito viene messo Anche il potenziamento Adatto Giusto E beh Alla fine abbiamo Tre giocatori C'è il Cristiano Ronaldo Ce l'hanno tutti Quindi alla fin fine Quindi non è che Gli diamo Questa grandissima importanza Certo Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Però vabbè Ce l'hanno praticamente tutti Perché chi gioca Questo gioco Ha fatto un tutorial E il Cristiano Ronaldo Ce l'ha Dai che cresciamo ragazzi Allora Una domanda per voi Riserve 125 125 giocatori Allora A parte questi oro E argento Abbiamo preso Comun così Tutti Questi giocatori Della squadra Della settimana Vedete che c'è davvero Un botto E tutti i doppioni Tutti uguali Sono praticamente Che cosa ci faccio Perché non si possono Vendere sul mercato Non possono essere venduti E mi ricordo Prima Chiamiamola La stagione passata C'era proprio Il menu dei piani Dove tutti questi giocatori Potevano essere messi In questi piani Per avere l'occasione Di prenderci dei gettoni In squadra settimana Insomma Per avere l'opportunità Di prendere i giocatori Più forti Qui invece Non si possono Né vendere Né scartare Non so assolutamente A cosa possono servire Magari alla fine del mese Forse non lo so Magari prossima settimana Quando ci saranno Nuova squadra La settimana Questi potranno vendere Non lo so ragazzi Non lo so Prima di concludere Questo video ragazzi Qua giù In basso a sinistra C'è L'evento Legacy Siamo gli Italian Legacy Non so se Questo è il nome Che usavo Nella prima squadra Quella avevo l'anno scorso Non so se magari La cambierò Ma vi farò sapere In un video Questo comunque Se volete entrare In questa lega Fate pure Vi accetto tutti quanti Perché i posti Sono veramente tasi Siamo 32 posti liberi L'anno scorso Questa lega Alloggiata pochissimo Però quanto ho capito Ovviamente Giochi contro un'altra lega E il maggior numero di gol Fra tutti quelli La squadra insomma vince Io ho visto Cioè i premi Non sono male Non sono affatto male Dovrebbe essere abbastanza semplice Vincere diversi premi Quindi vabbè Fate richiesta Se volete Siamo gli Italian Legacy Almeno che poi Non cambia nome In futuro Ma con quanto lo saprete Continueremo qua Nell'evento Versus attacco Per arrivare almeno In Lega Pro 1 Entro 4 giorni Vedremo ragazzi Sarà difficile Perché adesso Cominciano i matchmaking A metterci contro Giocatori veramente Potenti Cioè con una squadra Almeno con 3-4 Giocatori elite Quindi Ma noi non ci fermiamo Davanti a nulla Il road Tu campioni Di FIFA ragazzi Come alzate in questo video Vi è piaciuto E vi invito a lasciare Tanti tanti like Noi ci vediamo Al prossimo episodio Ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti